La raccolta di plastica e lattine, noi siccome i bosanini sono tedeschi, che mi dicono che fanno anche con gli schifoli, vediamo quanto precisi sono, allora gli abbiamo consentito di arrivare con la roba pressata, loro hanno una pressa per risparmiare sul trasporto, perché sono bravi, poi questo materiale è in entrata, come quello invece sciolto, le sciolte dalle raccolte differenziate. Questo materiale che sono imballaggi, quindi circuito con ai, che sono il 25% più o meno del rifiuto totale, poi il 20% è carta e va da un'altra parte, il 30% è un'aria umida e va da un'altra parte, la frazione residua, perché qui partiamo col concetto 100% differenziato, non esiste indifferenziato, la frazione residua secca,